Grazie allo sbarco su Digitale Terrestre e di diversi canali Discovery negli ultimi anni a partire da Real Time, passando per D-Max, sicuramente quello che abbiamo potuto fare è raccontare storie molto forti e molto rilevanti sia internazionali ma anche storie italiane molto forti. Quindi comunque Factual che ha sicuramente alla base il racconto di storie reali e quindi comunque un bacino infinito di possibilità negli anni a venire. La cosa che consiglio principalmente è quella di portare avanti le proprie passioni quindi quello che piace di più è comunque accompagnare la passione a una visione di tutto quello che è presente nel panorama televisivo e non solo odierno. Quindi comunque guardare tanta tv, guardare tanti contenuti televisivi e non solo. L'obiettivo del Factual è quello di raccontare storie ideali, come dicevo prima, sicuramente di storie da raccontare. Ce ne sono ancora tante, come dicevo, tante storie italiane e sicuramente Napoli può dare veramente tanto se si può raccontare ancora tanto di Napoli, uno spaccato l'abbiamo già raccontato con Real Time grazie al boss delle cerimonie e sicuramente ci potranno essere tanti e tanti altri temi, vite, storie e persone da poter raccontare. Grazie a tutti.